Gentili telespettatori all'ascolto, buonasera da Fabio Caressa e Antonio Di Gennaro Per la decima giornata di campionato si incontrano Mila e Napoli, chi vince può andare in testa della classifica Attenzione che Lavezzi si scatena, prova ad andare in copertura Bonera, Lavezzi cerca subito il traversone Voleva Denis, poteva forse cercare l'uno contro uno Gattuso ricomincia da Ambrosini, difende sulla sua trequarta in Napoli Ambrosini il corridoio interno è buono, non arriva Borriello in un primo tempo Poi in un secondo stava per calciare, da terra Cannavaro in calcio d'angolo Attaccato Ambrosini si lascia prendere da Blasi, Lavezzi, Lavezzi, Lavezzi e il Pocio Abbiati, Denis chiedeva palla, prima occasione la gol del Napoli e il Pocio Dentro si fa vedere ancora il tanque con Lavezzi che vuole un triangolo Denis fuori, Mannini, Abbiati non la tiene, neanche un'altra volta E poi Denis non riesce, Lavezzi anzi non riesce a buttarla dentro Grandissima palla gol per il Napoli Kakà Ci libera Kakà per il destro, sul fondo Ronaldinho di prima, il pallone per Jan Kulowski Fallaccia di Maggio, giallo anche per lui Vedi la rapidità d'azione Attenzione perché era già stato ammonito Maggio Kakà è venuto incontro, allunga il pallone per Jan Kulowski, posizione regolare Ronaldinho, grandissima parata di Jezzo Sedorf, zona tiro, prova, sul fondo non di molto Borriello, va via Borriello in area di rigore, Borriello ancora, Jezzo Borriello E poi il pallone sul fondo, Pato non è riuscito a toccarlo da due passi Subentra Kakà, Zambrotta vuole la sovra posizione, Kakà Palo, Zambrotta, non arriva, Ronaldinho Deviazione, Zambrotta, la parte opposta Deviazione, Zambrotta, Kakà, Jezzo e calcio d'angolo Flipper sembrava Kakà batte subito E sul fondo, clamoroso Sì perché? Giuro che non so come è uscita Kakà Vuole il traversone Eccolo, il tiro, ha deviato Sul fondo, Contini la sta per mettere nella sua porta Larga per Kakà Sempre uno contro uno di Kakà Sovrappone Sedorf, Kakà Traversone con una mano, pazienza Caccia di rigore L'ha chiamato Guardalini Sì Giezzo Giezzo para Ronaldinho Autogol Clamoroso di Dennis E nella maniera più incredibile si sblocca la partita E l'arbitro vanno tutti sotto la doccia Milan batte Napoli 1-0 Grazie a tutti Grazie a tutti